Un diverbio nato per il lancio di petardi da un balcone all'altro risolto a colpi di arma da fuoco. Notte di San Silvestro movimentata a Bari dove la polizia ha arrestato in flagranza di reato due persone, Michele ed Antonio Amoruso, padre e figlio, entrambi pregiudicati con l'accusa di tentato omicidio e detenzione illegale di arma clandestina. All'origine della sparatoria alcuni grossi petardi caduti dall'ultimo piano di una palazzina del quartiere Libertà finiti sul balcone dell'appartamento abitato dalla famiglia Amoruso. Un affronto da vendicare con le armi per i due pregiudicati barisi che hanno rapidamente raggiunto l'abitazione del sesto piano e dopo aver tentato inutilmente di farsi aprire la porta hanno esploso alcuni colpi di pistola all'indirizzo di chi si trovava all'interno dell'appartamento. Non contenti hanno anche provato a sfondarne l'ingresso a calci, ad inchiodare i due malviventi alle loro responsabilità le immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza installato dalle vittime sull'uscio di casa. Dopo una ricerca per le vie della città la polizia ha individuato ed arrestato Michele ed Antonio Amoruso, entrambi condotti nel carcere di Bari.